Imparate a superare le esigenze grossolane della carne e delle ossa, perché esse falsano la matrice attraverso la quale noi percepiamo il mondo. Ampliate la vostra consapevolezza verso l'esterno, al di là del sé corporeo, per abbracciare il sé del gruppo e il sé dell'umanità. Gli obiettivi del gruppo e della razza superiore sono trascendenti e accoglierli e raggiungere l'illuminazione. Presidente Xinjiang, saggi sulla mente e la materia.